Buongiorno a voi ritrovati con l'informazione su Telefriuli. Si è concluso intorno alle 2 del mattino sotto la pioggia l'intervento del soccorso alpino di Fornia Voltri nelle Alpi Carniche in comune di Paluzza. Una coppia di tedeschi di Wolfsburg, 61 anni lui e 58 lei mentre stava rientrando dal monte Cellon, creta di Colinetta, si è imbattuta in un banco di nebbia che li ha disorientati, conducendoli su una traccia di sentiero senza segna via quota 2000 metri. La donna accusava anche difficoltà e malessere, non era in grado di scendere autonomamente. La loro posizione è stata individuata grazie al servizio SMS Locator che si basa sulle coordinate ottenute attraverso il telefono cellulare tramite la centrale di Torino che lo attiva. A recuperare è stata una squadra di 10 tecnici del CNAS di Fornia Voltri che le ha raggiunti a piedi e le ha scortate nel rientro al passo di Monte Croce Carnico dove la donna è stata affidata alle cure dei sanitari per accertamenti. Rapina al centro massaggio orientale rossa di Fontana Fredda, verso mezzanotte tre uomini di origine cinese che hanno il volto travisato da alcune maschere sanitarie hanno fatto eruzione nel locale in via Ponte Banna 64 minacciando con un coltello le due addette del centro, una 46enne e una 44enne, entrambe di nazionalità cinese. Una delle due nel tentativo di reagire è stata ferita al dito mignolo della mano destra dal coltello. I malviventi sono fatti consegnare 1000 euro di incasso, dileguandosi a porto di una vettura di colore scuro. Temendo ritorsioni le due donne sottoscioccano tardato a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fontana Fredda e Sacile. In un episodio analogo si è verificato il 28 febbraio 2017 i danni del centro massaggio venere di Sacile. Anche in quel caso i rapinatori erano di origine cinese armati di coltello. Un 86enne di Sacile è stata rapinata da un falso medico dell'Inps che giovedì pomeriggio scorso ha suonato la porta in via San Giovanni del Tempio. L'uomo si è presentato a casa dell'anziana con la scusa di una visita domiciliare, riuscendo così a entrare in casa e sottorare dalla borsetta 50 euro in contanti per poi dileguarsi a piedi. I militari della compagnia di Sacile sono al lavoro per cercare di identificare il malvivente. In caso di situazioni dubbie i militari raccomandano di non aprire la porta di casa sconosciuti né di farli entrare e contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. 12. Scontro frontale sulla Ponte Bana all'altezza di Cassacco. Ieri sera verso le 20 due auto per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Maiano si sono scontrate e una delle due una Fiat Punto con a bordo una coppia è finita a ruota all'aria nel rio Barbian, fortunatamente senza acqua. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Udine, la donna in elicottero e l'uomo in ambulanza. Poco dopo le 20.30 è scattato l'allarme per un incendio ad Aviano in fiamme un'abitazione in via dei Molini. Sul posto una squadra di vigili del fuoco della centrale di Pordenone con autopompa e una del distaccamento di Maniago con autopompa e autobotte. Il rogo ha coinvolto l'interno di una camera da letto al primo piano di una vecchia costruzione, bruciati i mobili, materassi e sul posto anche i carabinieri non si segnalano persone ferite. Una BMW 330 è andata a fuoco nella notte in Friuli, l'incendio è divampato intorno a luna a Pavia di Udine. La vettura di proprietà di un cittadino straniero residente in zona era parcheggiata in strada. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Indagini in corso da parte dei carabinieri per stabilire le cause del rogo. E' stato attivato per l'anno accademico 2017-2018 presso l'Università degli Studi di Udine il corso di perfezionamento eicon, iconografia e iconologia del martirio cristiano dell'antichità all'età contemporanea. E' nato nel contesto di un accordo siglato tra l'Ateneo Udinese e l'Associazione Culturale Comitato di San Floriano, organizzatore della Mostra Internazionale di Il Leggio. Corso di perfezionamento che ha già ottenuto il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura, presieduto dal Cardinale Gianfranco Ravasi. Eicon è sostanzialmente una scuola, è un corso di perfezionamento post laurea, pensato insieme dal Comitato di San Floriano di Il Leggio e dall'Università di Udine, con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura. Da sempre l'arte ha lo scopo di educare l'anima, la mente, gli affetti, le virtù. Perciò accanto alle mostre di Il Leggio volevamo che nascesse un percorso di educazione e raffinamento culturale. Lo dedichiamo all'iconografia, iconologia del martirio cristiano, perché anche se a prima vista è qualche cosa di orribile da vedersi, in realtà mette in evidenza quanto può essere grande lo slancio di un uomo nel dedicare la vita a qualcosa di più grande di lui. E questo corso vuole aiutare proprio l'interpretazione e la descrizione delle opere d'arte in una maniera tecnica. Siamo lieti di aver fornito questo contributo. Il paese di Leggio ospita i corsisti, quelli che vanno a fare il corso. L'associazione sostiene anche con un contributo finanziario tutto questo. E questo, il Leggio è al centro ancora una volta e quindi diventa una piccola capitale dell'arte, una piccola gemma qui del nostro a Friuli. Far della cultura un appunto di partenza dello sviluppo dovrebbe essere una missione universitaria, ha detto. E da questo punto di vista il Leggio, il Comitato, il San Floriano ci ha portato via il lavoro, ma io sono molto contento, magari molti altri ci rubassero il lavoro, perché avrebbe una moltiplicazione di iniziative che danno un senso, non soltanto lo sviluppo territoriale, ma anche lo sviluppo spirituale. E questo è ancora più difficile, è per questo che San Floriano è un'esperienza unica. È stata presentata a Udine la stagione Eureka 9 della compagnia teatrale Anatema Teatro, equamente diviso tra il capologo frullano e il teatro della Corte di Osoppo. 40 appuntamenti con nomi importanti sia a livello regionale che nazionale. Una stagione che si annuncia ricchissima di grandi ospiti e di grandi nomi. Sì, grandi ospiti e grandi nomi che sono naturalmente suddivisi tra Udine e il teatro della Corte di Osoppo. Presenteremo un cartellone di oltre 30 spettacoli, in particolare 14 proprio al teatro della Corte, dove ci sono i grandi nomi. Apriremo noi come grande nome d'eccellenza, perché padroni di casa, con la tempesta di Shakespeare il 12 e il 13 ottobre, e poi ospiteremo grandi nomi del panorama italiano internazionale come Giorgio Pasotti, Corrado Tedeschi, Cornacchione, insomma tutta una serie di nomi che vanno sì dal panorama nazionale, ma anche grandi nomi del nostro territorio, come Catine, i Trigeminus e tutte le migliori compagnie del Friuli. Sindaco, Anatema si conferma una realtà importante per lo sviluppo culturale del territorio. Sì, una realtà veramente ormai, oltre che importante, indispensabile sia ad Osoppo che a Udine, perché con la loro originalità, con il loro stile, con il loro modo di fare, stanno veramente prendendo piede, come si suol dire, la comunità di Osoppo, ma penso anche la città di Udine sia veramente soddisfatta della loro creatività e iniziativa. Ed ora ci spostiamo a Pordenone, perché la città si prepara a un'estate ricca di eventi. I pordenonesi, che a luglio e agosto rimarranno in città, avranno centinaia di occasioni per non annoiarsi. L'estate a Pordenone, organizzata dal Comune, assieme a 80 associazioni, offre infatti oltre 300 eventi in centro e nei quartieri. In calendario dal 2 luglio al 31 agosto, musica, teatro, cinema, sport, cultura. Si va dai concerti delle stelle internazionali del blues e del rock ai laboratori per i bimbi. Il sindaco, Alessandro Ciriani. Si parla di più di 320 che sono stati costruiti insieme alle associazioni della città e del territorio. Questa è una risposta che diamo a quanti non potranno andare in vacanza o ci andranno per poco tempo e vogliono trovare una città viva, accogliente, che possa dare risposte per tutti quanti i gusti. Io credo che sia fondamentale poter garantire la vitalità di Pordenone non solamente durante i periodi invernali e autunnali, ma anche d'estate, quando c'è la grande concorrenza delle spiagge e della montagna. Fare in modo che chi resta qui possa godere tranquillamente di una sorta di ferie urbane e farlo anche con grande piacere. C'è però chi dice troppi eventi, troppo divertimento in città? Noi vogliamo una città che uscilli, soprattutto nel periodo estivo, tra cultura e divertimento. E' ingeneroso derubricare a feste questa iniziativa, al contrario è l'esposizione della potenzialità culturale di questa città. Noi abbiamo il dovere di garantire un'offerta culturale o aggregativa per tutti, questo è il nostro compito. E magari in un caso come questo, quando si fa in modo che la gente esca, dovremo remare a tutti dalla stessa parte e non alimentare polemiche ingenerose e spesso anche pretestuose. Anche quest'anno si è rinnovata la tradizione del perdon di Barbana. L'omelia dell'arcivescovo Redaelli è stata improntata sul rispetto della vita e sull'attenzione verso il prossimo. Voto sciolto anche per l'anno 2018. A salutare il tradizionale perdon di Barbana, una folla che già alle prime luci dell'alba ha cominciato a radunarsi tra Porto Mandracchio e Molo Torpediniere. Denominatore comune per tutta la giornata è il vento che in mattinata ha provveduto a trattenere la pioggia, salvando così di fatto la manifestazione, ma che ha costretto i portatori a non far uscire il felzo e il tradizionale baldacchino che copre la statualinea della Madonna durante la traversata in barca e a non aprire gli stendardi. Processione che però è in ogni caso attirato sull'isola d'oro numerosi fedeli e curiosi. Partenza alle 8.30 dopo la prima celebrazione, con il corteo ridotto fino al porto. Quindi il tradizionale annuncio. In nome di Dio, avanti! Così le barche iniziano il loro viaggio verso l'isola di Barbana. La celebrazione solenne, ufficiata dall'arcivescovo Redaelli, ha visto il prelato sottolineare l'importanza della vita, da quella che deve ancora nascere a quella che continua in persone malate o con problematiche di varia natura sanitaria. Una difesa della vita che per Redaelli arriva anche a chi in altre parti del mondo necessita aiuto e cerca di fuggire da situazioni di guerra e di sofferenza. Al termine della Santa Messa, il ritrovo per tutti i partecipanti con un momento conviviale spontaneo ed il rientro sull'isola con il canto del Tedeum di ringraziamento e li invito a ritrovarsi ancora il prossimo anno. Ed ora andiamo a Palmanova. Per due giorni la città è stata invasa da appassionati di giochi d'animazione, fumetti e film. Dal mondo di Star Wars a quello della Disney, dal fumetto italiano a quello internazionale, passando per film cult come Hit ed Harry Potter. Per un fine settimana Palmanova ha richiamato migliaia di appassionati del genere grazie a The Game Fortress. Questi sono due momenti topici sui quali noi ci stiamo costruendo, no? Perché c'è materia prima, poi c'è una città che ha un grande valore. Qua bisogna solo, dico io, metterla a reddito. Metterla a reddito vuol dire creare situazioni dove si fa economia, dove si fa conoscere e dove chiaramente uno viene a parlare per visitarla, per viverci bene e per apprezzarla e per alla fine parlare bene di noi. Questo è un po' l'obiettivo. Il plauso va fatto al sindaco perché si è inventato questi format moderni che guardano al futuro e che hanno la capacità di riportare le persone, soprattutto i giovani, in piazza a lavorare e giocare assieme. Questo è un evento che va promosso, come dire, elogiato, perché ho visto davvero tanti, tanti bambini, tanti ragazzi giocare, comunicare, vivere assieme, quindi non è cosa di poco conto. Mi diceva al sindaco che c'era un 15 minuti, questa iniziativa ospita, dalle 15 alle 20 mila persone, beh, io dico quante altre iniziative in Friuli Venezia Giulia sono in grado di chiamare così tante persone, quindi onore al merito, complimenti e davvero lunga vita manifestazioni come queste e soprattutto all'entusiasmo e alla creatività dell'uomo e dei giovani. L'informazione delle 13 termina qui, tenera puntuale questa sera alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio. Grazie a tutti.